La somma prevista dalla Fondazione Carifano da utilizzare per finanziare le erogazioni nel corso del 2022 sale di 100.000 euro e passa così dai 920.000 previsti per l'anno in corso a 1.020.000 euro. Approvato dal Consiglio Generale il 18 ottobre, il documento programmatico previsionale 2022 è stato sottoposto domenica scorsa all'Assemblea dei Soci con esito positivo. Ieri il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Giorgio Gragnola, ha reso noti i dati di bilancio. 200.000 euro saranno stanziati per attività e beni culturali, un settore importante in quanto nel 2022 la Fondazione festeggerà 30 anni dalla sua Costituzione avvenuta nel 92. Pandemia permettendo quindi riprenderanno tutte le attività culturali all'interno degli spazi dedicati che vanno dalla Pinacoteca di San Domenico a Palazzo Bracci Pagani. Procederà anche il recupero di Palazzo Zagarelli, ora Borgogeli avveduti. 140.000 euro poi andranno al settore dell'educazione, istruzione e formazione, mentre altri 200.000 sono destinati a quello di volontariato, filantropia e beneficenza. 50.000 invece andranno alla voce protezione e qualità ambientale. Infine 430.000 euro saranno utilizzati per finanziare il centro natatorio in costruzione in zona aeroporto a Fano. L'importo è stato ottenuto sommando i 200.000 euro stanziati per il settore famiglia e assistenza agli anziani e di 230.000 per il settore della salute pubblica, destinati alla realizzazione di un centro di riabilitazione in acqua, ricompreso nell'edificazione della piscina. La parte rimanente delle risorse stanziate per il settore famiglia e assistenza agli anziani sarà impiegata dalla Fondazione Carifano per sostenere e incentivare i progetti finanziati anche con risorse provenienti dall'attività di crowdfunding. Questo bilancio preventivo prevede risorse compatibili con gli investimenti che la Fondazione ha sul mercato finanziario e che presuppone erogazioni per oltre un milione di euro, quindi incrementiamo le erogazioni rispetto al bilancio dell'esercizio precedente. Questo incremento viene spalmato su tutti i settori di intervento della Fondazione e quindi questo riteniamo possa essere un dato che va considerato favorevolmente perché aumenteranno le erogazioni sul territorio. Il Covid ha influenzato il bilancio precedente, ha spiegato Gragnola, perché nel 2021 abbiamo preso un impegno straordinario nel settore della salute pubblica. Per il 2022 la cifra destinata a questo ambito è stata riconfermata. Tutti gli altri settori di intervento della Fondazione sono stati incrementati di 20 mila euro ciascuno e quindi le erogazioni totali sono 100 mila euro in più dell'anno precedente. Anche il settore dell'ambiente, per la sensibilità che la Fondazione vuole sottolineare in questo ambito, sono stati anche quelli incrementati.